A dieci giorni dall'inizio dello sciame sismico si sono superati i 1.500 interventi di sopralluogo e verifiche tecniche dei vigili del fuoco su edifici e strutture nelle province di Ancona e Pesaro Urbino. Verifiche alle quali conseguono provvedimenti di inagibilità o di sgombero. È il caso di Pesaro dove fra centro e mare nell'ultima settimana si è verificata l'evacuazione di un'intera palazzina di Via del Maino con nove famiglie per 23 persone fuori di casa è il caso di Via della Robbia dove i residenti sperano di rincasare in fretta visto che oggi è stata completata la rimozione della ciminiera Molaroni. Salgono i sopralluoghi, salgono le stime dei danni. Pesaro ha già previsto oltre 20 milioni di euro, Fano oltre 30. Cifre che si traducono in una richiesta di stato d'emergenza ieri arrivata in Consiglio regionale ma che non è stata giudicata con i termini d'urgenza. Noi abbiamo presentato questa mozione già da venerdì scorso, quindi circa una settimana fa, a due giorni dal sisma, ma pensavamo che ieri in aula il Presidente venisse ad annunciarci il fatto che aveva già avviato le procedure per chiedere lo stato d'emergenza. Purtroppo addirittura non è stata votata neppure questa mozione, è stato detto che la richiesta dello stato d'emergenza non era urgente, ovviamente una contraddizione in termini perché lo stato d'emergenza si chiede perché c'è un'emergenza. Noi siamo rimasti veramente sconcertati da questa decisione della maggioranza che non ha ben capito quello che è successo nel nostro territorio, abbiamo molte scuole che in qualche modo con i studenti sono stati costretti a dover lasciare le proprie aule, le famiglie che sono state evacuate dalla propria abitazione, abbiamo tantissimi problemi quindi alle varie strutture pubbliche, alle varie strutture private e lo stato d'emergenza è importante perché consente di poter stanziare da parte dello stato le risorse sia per gestire la parte iniziale, cioè dell'emergenza, cioè la parte chi paga queste persone che sono costrette ad abitare fuori dalla propria abitazione. Con lo stato d'emergenza questi costi potrebbero essere messi a carico dello stato. Oltre quindi alle risorse per lo stato d'emergenza, cioè le prime risorse che servono, che sono necessarie, con lo stato d'emergenza poi dovranno essere stanziate le risorse per poi recuperare sia gli edifici pubblici che quelli privati. Tutto quello che si sta facendo fino ad oggi c'è il rischio di doverlo rifare perché con lo stato d'emergenza anche quelle che sono le verifiche che vengono fatte per verificare appunto se un edificio può essere abitabile o non può non essere abitabile o per valutare i danni, se c'è lo stato d'emergenza va eseguita una procedura senza stato d'emergenza ovviamente i comuni o i vari soggetti privati lo stanno facendo con le loro modalità e non con quelle che lo stato magari richiede nel momento in cui viene concesso uno stato d'emergenza. Ma soprattutto le motivazioni che sono state date all'interno dell'aula, cioè che appunto lo stato d'emergenza non è un'emergenza e che il terremoto che c'è stato nel nostro territorio non è stato così grave da dover richiedere appunto un'emergenza. Io devo dire che purtroppo se non ci sono le vittime sembra che non c'è stato niente, in realtà fortunatamente ovviamente non ci sono state le vittime, ma le vittime non ci sono state o comunque non ci sono molti fabbricati che sono implosi solo perché l'epicentro è stato in mare, ma comunque la scorsa è stata la più forte che il nord delle Marche hanno ricevuto negli ultimi 90 anni. Una decisione quella del Consiglio regionale che ha fatto sobbalzare anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Come faranno queste 59 persone a rientrare nella loro abitazione se non ci sarà qualcuno che li aiuterà? Siamo davanti a un edificio che ieri è stato sgomberato, 59 persone sono sfollate perché questo edificio a causa del terremoto è inagibile. È stato il terremoto più grosso degli ultimi cent'anni in questa zona, siamo stati fortunati perché l'epicentro era sul mare, ma questa mattina ho letto un resoconto vergognoso del Consiglio regionale di ieri, ma come fa la destra in Consiglio regionale a dire che non abbiamo bisogno di aiuto? Ogni giorno sommiamo danni a patrimonio pubblico, scuole, musei, biblioteche, uffici comunali, a quello privato come questo palazzo. Come facciamo ad avere un aiuto dello Stato se il Consiglio regionale non chiede lo Stato d'emergenza? Lo Stato d'emergenza è la precondizione per essere aiutati e ci sono città come Pesaro, come Fano, come Ancona, come altre città della costa che hanno bisogno di un aiuto. Presidente Acquaroli, faccia il Presidente della Regione Marche, non ascolti un Consiglio regionale con interventi di irresponsabili che non si rendono conto che non si può discriminare un comune dall'altro in base dal colore politico della giunta che lo governa. Non si può affrontare una fase come questa, tutti i cittadini delle Marche hanno gli stessi diritti e quando c'è una calamità si aiutano i cittadini danneggiati. Su questo terremoto la farta danneggiata è la costa del nord delle Marche. Chiedete lo Stato d'emergenza e lavoriamo insieme per ottenere i fondi che servono per mettere a posto gli edifici danneggiati.